C'è chi è convinto e chi ha ancora molti dubbi e preoccupazioni. Certo è che le Marche e il Veneto sono le regioni con il minor numero di vaccinazioni. L'allarme lanciato dall'Istituto Superiore di Sanità è stato subito raccolto dai pediatri, dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, oltre che dalle campagne di sensibilizzazione distribuite in tutta la penisola. I dati dimostrano che per la prima volta negli ultimi dieci anni la copertura vaccinale per alcune malattie come il morbillo, la pertosse e la rosolia è scesa del 4%. Dal 90,3% considerata la cifra limite per la sicurezza, secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, all'86,6%. Nella nostra provincia si registra un calo soprattutto nelle zone dell'entroterra come Fossombrone, Monte Felcino, San Costanzo e Mondolfo. Ottimi risultati con pochi rifiuti invece per la Val Cesano e in particolare per il comune di Pergola. Mi faccio tutti gli anni, sono 30 anni, 40 anni, perché sono vecchio. Lei invece? Io non l'ho fatto, però sono favorevole lo stesso. Favorevole. Lei li fa abitualmente, continua con questo ciclo? No, adesso io non ho più fatto, pensavo diciamo vaccini per bambini, quella roba così, sì. In particolare per i soggetti più a rischio, quindi sì. Io personalmente sono favorevole. Avete vaccinato la piccola? Sì, sì. Tutti i vaccini. Quindi anche voi siete protetti? Esatto. Le vaccinazioni dei bambini italiani ad esempio calano il ritmo di 5-10 mila all'anno e negli ospedali si ricominciano a curare malattie che erano scomparse. E allora che cosa fare? Tra preoccupazioni e allarmismi, prima di prendere una decisione è importante chiedere informazioni al proprio pediatra o al Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1. C'è una gran preoccupazione da parte dei genitori giovani. Io francamente quando dovevo fare i vaccini non so quanti ne ho fatti, una quantità industriale, a parte che ero in collegio, ogni tanto ti chiamavano vaccino. Io penso che non siano poi così pericolosi, ecco. Crede che ci sia poca informazione? Penso proprio di sì. Disinformazione ma soprattutto una prevenzione nei confronti di tutti i prodotti farmaceutici. è importante per prevenire. Per prevenire è importante, sì. Lei che cosa ne pensa? Io, sì. È favorevole. Prevenire è importante, è importante. Ecco, lei si è vaccinato? No, onestamente dopo quel periodo che c'è stato delle morti ho avuto paura e non mi sono vaccinato più. Non se l'è sentita quindi, ma crede che i pazienti vengano informati abbastanza dai loro medici? Sì, i medici ti dicono sempre, non ti preoccupare che a te capita niente, capita un caso su mille. E così io dopo per la pelle mia ci penso io. Lei è contrario o favorevole? Favorevole ai vaccini. Io ho mia figlia dottoressa, medico, ne ho fatti due dei vaccini. Quindi l'ha informata adeguamente? Bene farli, bene farli. Come no? Anche per me, anche per me. Poi magari non abbiamo più figli piccoli, però comunque siamo favorevoli al vaccino, sì. Quindi ai vostri figli avete fatto fare il vaccino? Sì, ai nostri tempi sì. Noi l'abbiamo fatto, sì sì, noi l'abbiamo fatto. Quanti mesi ha, credo? Mesi orei piccolissimi? 5 mesi, 5 mesi, sì. Quindi già vaccinata? Maschio o una femminuccia? Un maschietto? Una femmina. Come si chiama? Elda. Voi invece siete vaccinati, comunque credete nell'importanza della prevenzione? Se l'abbiamo fatto noi ci crediamo dopo. Si vedrà col tempo se sono risultati positivi o negativi. Ha vaccinato la piccola? Sì, tutte le vaccinazioni fatte. Quindi è stato un consiglio anche da parte del vostro medico, del pediatra? Sì sì, ce l'ha consigliato il pediatra. Io non ho pianto. Ma sei stata bravissima allora. Hai sentito solo un picco? Basta? Quindi si può rifare. Va bene, ciao. Grazie, ciao.